Selezionare i suoni. Per seguire correttamente questo capitolo, riavviate la vostra PA5X per trovarci nello stesso punto dall'inizio. Dopo l'accensione, controllate che i pulsanti Memory e Autofill siano accesi. La sezione Control sia su Main. View sia su Slider. I pulsanti Keyboard Set Library siano su Category. Matrix sia su Bank 1. E reimpostate lo slider crossfade spostandolo leggermente a sinistra. PA5X offre moltissimi suoni PCM d'alta qualità adatti ai generi musicali più diversi. Per questo strumento sono stati realizzati espressamente suoni nuovi e unici, tutti dinamici ed espressivi come archi, ottoni, fiati e altri suoni acustici. Molti dei nuovi timbri sono ispirati o provengono da Core Chronos, Nautilus e SV2. I suoni sono organizzati in Keyboard Set. Possono essere semplici, come un singolo suono di piano su tutta la tastiera, o Split e Layer con un massimo di tre suoni nella parte superiore e uno nella parte inferiore. I Keyboard Set sono selezionati da una libreria accessibile dal display o dal pannello di controllo. Assicuratevi di aver selezionato Category e non Favorite. Vedremo i Favorite più avanti nel capitolo. I pulsanti Keyboard Set Library selezionano rapidamente una categoria specifica. Ad esempio, premendo E-Piano, Abbreviazione di Electric Piano, il pulsante diventa verde, indicando la categoria selezionata. Si apre una finestra con i Keyboard Set di Piano Elettrico. Toccate quello che preferite. Premendo Exit torniamo alla pagina principale. La finestra di selezione dei Keyboard Set si apre toccando qui. A sinistra sono selezionate le categorie. Scegliete Synth. I Keyboard Set sono visualizzati in gruppi di 10. Toccate qui per passare agli altri gruppi. Oppure usate i pulsanti più e meno o il dial. Le sei pagine sono visualizzate in grigio, indicando che sono tutte disponibili. Il tasto freccia in grigio indica che ci sono più pagine disponibili. Andiamo alla categoria SACS. Notate che solo le pagine 1, 2 e 3 sono disponibili. Le altre visualizzate in nero non sono disponibili. Qui si selezionano i Keyboard Set del Factory Group. Accanto c'è lo User Group. Su questo gruppo si trovano tutti i Keyboard Set modificati, salvati o caricati. Il Drives Group accede ai Keyboard Set da un dispositivo di memoria esterno. Torniamo al Factory Group. Notiamo le informazioni sul percorso dell'unità nella parte inferiore del display. Le analizzeremo nel dettaglio nel capitolo sulla gestione dati. Possiamo trovare i Keyboard Set anche premendo il tasto Search. Toccando qui si apre un elenco dove selezionare l'elemento da cercare. Toccate Keyboard Set. Toccate qui e con la tastiera virtuale digitate Pad. Poi toccate Search sul display. Appaiono tutti i Keyboard Set che hanno Pad nel nome. Possiamo scorrere verso il basso toccando qui, o con i tasti più e meno, o con il dial. Per selezionare quello desiderato, toccate il nome e premente Exit. Premete il pulsante My Setting. Questo tasto richiama il primo Keyboard Set con le impostazioni preferite selezionato all'accensione di PA5X. L'impostazione di default richiama un pianoforte stereo su tutta la tastiera, ma potete selezionare il suono che preferite. Un layer di piano elettrico e archi. Uno split con basso e organo, ecc. È un modo semplice e veloce per richiamare le proprie impostazioni preferite. Per salvare tutte le modifiche eseguite su My Setting, tenete premuto il pulsante My Setting finché non appare la finestra Right. Toccando Save e poi Yes, l'impostazione corrente viene memorizzata. Premete per ora due volte Exit per mantenere l'impostazione originale e tornare alla pagina principale. È possibile salvare le modifiche dei Keyboard Set nelle locazioni Keyboard Set User. Assicuratevi che questo tasto sia su Category e tenete premuto un pulsante della Keyboard Set Library. Toccate T per assegnare un nome. Poi qui, per scegliere la locazione dove memorizzarlo, premete Exit. Premendo questo tasto, passiamo da Category a Favorite. Ora questi pulsanti selezionano 11 Keyboard Set preferiti. Di default, sono assegnati Keyboard Set corrispondenti alla categoria di ogni pulsante, ma a questi tasti può essere assegnato ogni Keyboard Set. Controllare che il tasto sia su Favorite. Tenete premuto un tasto Favorite per un paio di secondi. Apparirà questa finestra con l'assegnazione di ciascun tasto. FTY è l'abbreviazione di Factory Group, quindi la Category e il nome del Keyboard Set. Toccando l'icona Cestino, cancelliamo l'assegnazione corrente. Toccando qui, si apre la finestra di selezione dei Keyboard Set. Scegliete quello da assegnare. Premete due volte Exit. Eccovi 3 Grazie a tutti